Lucio Dalla è inedito nelle foto di Romolo Forlai. Questo è il titolo della mostra che ritrae attraverso 100 scatti un Dalla giovanissimo nel periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70 e in momenti della sua vita pubblica e privata. Il fotografo Romolo Forlai, amico dell'artista, ce lo restituisce in queste immagini inedite per l'esposizione organizzata dall'associazione Tolentino Jazz che sarà dalle ore 16 di oggi 3 marzo a domani 4 marzo alla Galleria San Gallo di Tolentino. Ne parliamo oggi con Lanfranco Pascucci, presidente dell'associazione Tolentino Jazz. Chi è il fotografo Romolo Forlai, grande amico di Lucio Dalla? Romolo Forlai è un carissimo amico che da qualche anno vive a San Severino, grande amico di Dalla che in quegli anni, oltre che suonare insieme nel gruppo dei Flippers con i fratelli Catalano, Fabrizio Zampa, intorno agli anni 60 e concomitanza con la nascita della musica beat in Italia, il gruppo che perde un po' della sua attività e Romolo e Fabrizio aprono questo studio di fotografia. Le foto che noi vedremo di Lucio Dalla sono foto particolari perché Romolo, grazie alla grande amicizia che aveva con Lucio, lo invitava spesso, sono foto inedite nelle strade di Roma. E poi ci sono anche delle foto, tra virgolette, irriverenti perché Lucio amava, era un grande, una persona mi diceva Romolo che amava scherzare, giocare, un po' irriverente in certe situazioni, per cui vedremo anche alcuni scatti che sicuramente faranno, insomma, ci faranno vedere un Lucio Dalla ancor di più, diciamo, ironico, scherzoso e irriverente, tra virgolette. La mostra consiste di un centinaio di foto, nelle più diverse location, quindi in giro per Roma, nello studio e il tutto è corredato da un opuscolo che Romolo Forlai sarà possibile acquistare, questo opuscolo con tutte le foto durante la mostra e ci saranno anche degli interventi musicali da parte dei musicisti della nostra associazione per ricordare Lucio non solo in foto ma anche con le sue meravigliose canzoni. Grazie.